Iniziamo di nuovo, si cambia giro, di nuovo si gioca con lo jug, adesso a casa nostra giochiamo a Milano, stiamo un po' meglio, siamo quasi tutti in allenamento, così subito vuol dire che il gruppo è più forte, si allena bene, così arriveremo più pronti per la partita con lo jug. Poi ci aspetta un avversario che è cresciuto tanto dall'inizio della stagione perché hanno perso un paio di partite ma sono cresciuti perché c'erano un paio di nuovi giocatori e giocano meglio, hanno dimostrato anche a Dubrovni contro di noi, hanno giocato abbastanza bene ma da nostra parte possiamo e dobbiamo migliorare tantissimo su di tante cose, eravamo pochi a Dubrovni che si vedeva da metà partita che non riusciamo a tenere un ritmo alto che ci vuole per queste partite, soprattutto a Champions. È una bellissima piscina, nuova e spero che ci dà un altro motivo che facciamo una grande partita e andiamo a vincere.